Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, guidami nel contemplare l'incarnazione di Gesù in tutta la sua meraviglia. Ti contemplo, piccolo Gesù, in quel piccolo esserino formatasi nel grembo di Maria, dalla fusione di una piccola cellula umana di lei con la tua natura di Dio, per opera dello Spirito Santo. Figlio di Maria e anche figlio del Padre che è nei Cieli. Non c'è avvenimento più grande nella storia e oggi ci mette davanti la grande figura di San Giuseppe che ci presenti come uomo giusto. Bastano poche parole del Vangelo per farci vedere in lui un grande esempio di uomo retto, pienamente inserito in mezzo al suo popolo, di uno che ne segue le regole e ne ha assorbito la mentalità ma che di fronte ad una parola del Signore vince ogni possibile rispetto umano e si mette in servizio di Dio, abbracciando con tutte le sue forze la missione che Egli gli affida. Grazie Signore che sai scegliere sempre le persone giuste per portare avanti i tuoi progetti e grazie, perché di solito scegli proprio gli umili come Giuseppe e Maria che hai chiamato a collaborare al tuo progetto più grande. Come Dio avresti anche potuti imporre a loro l'ubbidienza, ma fedele alla libertà che hai dato a noi creatori umane, hai fatto loro la proposta e coerentemente hai aspettato i loro sì. Caro San Giuseppe, nel Vangelo non troviamo tue parole, ma ci appare chiarissimo il tuo esempio di vita. Nel definirti uomo giusto, la Sacra Scrittura ci presenta la tua santità. Uomo rispettoso della legge umana e tanto più della parola divina. Sposo ideale, saggio e amoroso padre, onesto lavoratore, pienamente inserito nel contesto sociale del tuo tempo. Hai dato il tuo contributo pieno nel realizzare la Santa Famiglia secondo il Cuore di Dio e offri a noi, insieme alla tua sposa, il modello ideale di famiglia. Grazie San Giuseppe, oggi più che mai abbiamo bisogno di te, perché in questi ultimi decenni abbiamo commesso e seguitiamo a commettere un errore molto grave. Stiamo distruggendo le fondamenta della famiglia. La società di oggi, in nome della libertà individuale, sta cadendo nell'egoismo più stretto e sta facendo vacillare la stabilità e l'unità della famiglia, con il rischio di deformarla e di far cadere le conseguenze nefaste che ne derivano sui più deboli, che sono i figli e gli anziani. A questo corrisponde anche un allontanamento dalla fede. Guarda le nostre chiese, San Giuseppe, le presenze dei fedeli sono diminuite e poi gli uomini che le frequentano sono una minoranza. Ed anche nelle case manca troppo spesso quella figura di padre che con amore e fermezza sa orientare ed educare i propri figli secondo sani principi. Prega per noi, San Giuseppe, insieme a Maria, la tua santissima sposa. Pregate perché ogni famiglia guardi al modello di famiglia che voi avete realizzato e imiti le vostre santi virtù. Insegnate a ciascuno a svolgere bene il proprio ruolo dentro la famiglia, nell'amore reciproco e nell'ubbidienza alla volontà di Dio. Portate Gesù in mezzo a noi e aiutateci a vivere alla sua divina presenza, ad incarnare il Vangelo nella nostra vita, nell'ubbidienza alla Chiesa e nel rispetto delle leggi civili, come avete fatto voi, quando da Nazareth, pur con le difficoltà di spostamento, vi siete recati a Betlemme per il censimento ordinato dall'imperatore romano. Non vi stancate di ricordarci che se riusciamo a riportare la famiglia alla bellezza con la quale Dio l'ha creata e a ravvivare la grazia del sacramento del matrimonio con cui è stata consacrata, allora essa ritroverà la sua felicità e la sua pace e anche la società diventerà migliore. Ancora di due grandi grazie abbiamo bisogno, caro San Giuseppe. Invoca per il mondo, con Maria, la fine di tutte le guerre, in particolare di quale è in atto tra la Russia e l'Ucraina e quella tra Israele e Palestina. Pregate perché la sofferenza che le popolazioni di quei paesi stanno ora vivendo serva a far comprendere a tutti che solo l'amore salva e rende belli i nostri giorni. Aveo Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno Padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la Divina Sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.